Convalidato l'arresto del palermitano Ignazio Locascio di 49 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo era stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Sciacca al termine di un inseguimento lungo la statale 115. I militari dell'arma stavano effettuando un servizio ordinario di controllo della circolazione stradale e avevano intimato l'alta al conducente di una Fiat Panda che viaggiava sulla statale 115 da Menfi in direzione Sciacca. L'uomo dapprima ha finto di fermarsi poi repentinamente ripartito con il mezzo e si è dato alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento che dopo alcune pericolose inversioni di marcia sulla statale da parte del conducente della Fiat Panda si è concluso con il blocco del veicolo da parte dei carabinieri che hanno immediatamente sottoposto a perquisizione il 49enne palermitano con diversi precedenti di polizia. Perquisizione poi estesa all'auto e che ha portato al rinvenimento nel cofano posteriore di un faro portatile di grandi dimensioni al cui interno c'erano 12 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno. A quel punto l'uomo è stato portato in caserma e successivamente posto agli arresti domiciliari presso la propria residenza palermitana come disposto dalla Procura della Repubblica. Ieri l'udienza di convalida al Tribunale di Sciacca con la conferma degli arresti domiciliari.